Benvenuti su Carrozzeria De Gregorio TV Carrozzeria De Gregorio è professionalità, cordialità e competenza dal 1969 al vostro servizio La Carrozzeria De Gregorio si trova in via Centallo 11 a Torino Visitate il sito internet www.carrozzeria.degregorio.it o il nostro account Facebook Siete rimasti in panne? O avete avuto un sinistro e avete necessità di un carroattrezzi? Ricordatevi il nostro numero verde gratuito 800 58 49 49 Servizio attivo 24 su 24 con personale altamente qualificato Siamo presenti? Siamo presenti? Non mi sente? Siamo caliti? Sì! Allora Venga qua, venga qua, venga qua Presidente Ci siamo attrozzati? Allora ci troviamo oggi 24 maggio 2012 a festeggiare il secondo anno e dico il secondo nella nuova sera di via Centallo 11 a Torino Volevamo prima di tutti io e mio papà detto il dudù ringraziare voi clienti per la fiducia per la fiducia che è continuata a darci oramai da 43 anni perché voi siete il cuore pulsante della carrozzeria di Gregorio ringrazio ringraziamo anche la DGA la fiducia comedy Siamo ausencialmente la vista èographer e poi l'automo di meno servizi noleggio a lungo termine noleggio a breve termine autosastitutive per carrozzerie Sede 10.11 partita IVA diversa dalla carrozzeria di Gregorio due partite rive diverse ditte a sé regolarmente scritte con la partita IVA per la collaborazione che continua ad offrirci con le autosostitutive a noleggio a lungo termine ringraziamo anche i nostri collaboratori passati perché i momenti belli non si cancellano mai ringraziamo anche i collaboratori presenti Salvatore Salvatore Vito Solicocco Alessio Mario Fabi Giorgio Mello Campiano Cristian Alessandro Bo Gennaro Bo 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 Grazie a lui che si presenta ogni volta. Con le buste paga, con il copri volante, silenzio che ti licenzio, copri volante con questa sua bellezza, la cliente si scioglie e ci dice sì, te la lascio, dove lo trovo un altro così? Grazie a tutti. E le gambe dell'azienda. E io mi voglio ringraziare. Un ringraziamento profondo da parte nostra. Infine ringrazio personalmente perché questa persona qui dice ogni volta se era femmina era meglio. Perché la persona che è la mente della caratteria di De Gregorio è il signor De Gregorio IV. Che dal 1969 e ripeto 1969, 43 anni di attività, con ditta individuale e con ditta società, il signore continua come un ragazzino a portare avanti la sua azienda. Quindi la caratteria di Gregorio augura a sé senza un buon compagno. Con chiarità, professionalità e competenza al vostro servizio. e voglio ripatire una cosa la carrozzeria di Gregorio patisce ma non pallisce l'ultimo la carrozzeria di Gregorio balcolla ma non molla grazie, grazie grazie, grazie grazie, grazie e grazie anche al signore che collabora con noi Luca Garchan ohé, ohé, ohé ohé, ohé a te quella questa carne siamo pronti? Grazie a tutti Si trova in via Centallo 11 a Torino Visitate il sito internet www.carrozzeriadegregorio.it O il nostro account Facebook Siete rimasti in panne? O avete avuto un sinistro e avete necessità di un carroattrezzi? Ricordatevi il nostro numero verde gratuito 800 58 49 49 Servizio attivo 24 su 24 Con personale altamente qualificato